Con Monica Acciarri Perché ho perso il lavoro, non il mio talento Perché sono anziano, ma non ho perso la speranza Perché non voglio andare fuori per avere un futuro Perché sono una donna, con un lavoro da svolgere e un bambino da crescere Con te Monica Acciarri Candidata alle elezioni regionali nel Partito Democratico